Grazie a tutti. Saregherei innanzitutto al pubblico di non suggerire perché il momento è importante, c'è un grosso monte a premio. Massimo sei pronto? Sono pronto. Saskerz. Buon divertimento. Massimo, la prima per te è 5 più 3, 8, 4, per 2, 8. 10 meno 2, ripeto 10 meno 2, 8, perfetto. 10.000, 10.000 meno 9.992. 8. Fane un altro paio, una con le centinaia, vai, mi sento forte con le centinaia, vai. Allora massimo 108, meno 100, 8. Fammi una radice quadrata, chi già immagina quale sia la radice quadrata, vai. La domanda è, la radice quadrata di 64. 8. Sì! 8.